buonasera buonasera a tutti benvenuti a questo nuovo episodio di spiegolature astronomiche è il quarto incontro e questa sera ho il piacere di avere qui con noi massimo mazzoni uno dei primissimi soci della società astronomica poliziana laureato in fisica è stato astronomo presso l'università di firenze e una personalità di spicco potremmo dire della ricerca scientifica italiana è veramente un grande onore averlo fra di noi e ha lavorato in ricerca in diversi paesi del mondo tra cui paesi bassi e canada e è stato anche direttore di un laboratorio di spettroscopia atomica ad arcetri la cosa forse che mi sta particolarmente a cuore visto anche le mie letture e i miei interessi per quanto piccolo riguardo la fisica è che ha anche prestato collaborazione al progetto virgo per la realizzazione dell'antenna interferone inter ferometrica che come sapete è stata importante nella nella scoperta nel rilevamento delle onde gravitazionali è autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche e negli ultimi anni si sta occupando di storia della fisica dell'astronomia e quindi proprio per questo questa sera vuole accompagnarci in questo nuovo viaggio all'insegna del cielo dantesco quindi viaggio fra letteratura storia fisica e astronomia vi ringraziamo tutti quanti per l'attenzione per essere qui con noi vi ricordiamo che potete seguirci sulle nostre pagine social potete scriverci per tesseramenti e per eventi e quanto ormai prossima all'estate anzi ormai già da quattro giorni abbiamo sorpassato il sostizio d'estate e quindi si avvicinano anche le nostre programmazioni osservative per rimanere aggiornati non dovete fare altro che seguirci sulle nostre pagine e per me è tutto quanto e a questo punto lascerei la parola a massimo buon ascolto a tutti grazie ringrazio joe pedro per la presentazione e l'argomento di stasera e punto lo vedete e dante devo dire che è ovvio è ovvio che in quest'anno un fisico un astronomo lo faccio io lo fanno lo faranno anche i miei colleghi di parlare dell'astronomia di tante inevitabile d'altra parte un argomento ovviamente abbastanza diffuso poi accennerò un po anche qualche pubblicazione che è uscita e quindi più che raccontare le stesse cose perché in realtà si tratta di stesse cose dante ce lo siamo sentiti ripetere fin da dagli studi delle scuole superiori ho cercato di puntare l'attenzione su altri aspetti sulla preparazione di dante poi vedremo anche qualche passo non ci sta tutto dante non sta tutto in nessuna parte neanche in una settimana di studi quindi a un certo punto quando vedrò che il tempo taglia il tempo sta andando oltre taglierò lasciando alla buona volontà l'interesse di ognuno degli approfondimenti e già con queste parole ho sprecato quattro preziosi minuti quindi se ci sono eventualmente qualche domanda il nostro gentile moderatore se ne farà carico perché io non vedo la colonna di chat quindi non vedo i messaggi se non alla fine quindi tutto questo verrà preso in considerazione eventualmente alla fine e partiamo con l'argomento dante un personaggio singolare un personaggio eccezionale devo dire la cosa che mi ha sempre aggettivo turbato forse un po eccessivo perché siamo tutti qui a stendere tappeti rossi red carpet se cerchiamo di essere moderni davanti alle pantofole di dante cosa che non era ai miei tempi io non non l'ho apprezzato così tanto ma più che sono andato avanti più che in effetti questo personaggio mi è apparso singolare perché singolare perché se andiamo a considerare i grandi scrittori italiani e qui ci mettete invece possiamo mettere tanti nomi riconosciamo anche più moderni questi il rapporto fra letteratura e scienza è però tipico soltanto di pochissimi di questi stiamo parlando di dante quindi stiamo parlando di qualcosa che dura 700 anni di letteratura scientifica in italia ce n'è abbastanza poca ce n'è stata abbastanza poca tanti uno di questi dante linghiere leggiamo insieme compare nel piccolo numero di massimi esponenti della letteratura italiana però un caso particolare perché certo si approfondisce la lingua le sfumature l'aspetto storico tanto è ricco da tutti i punti di vista e non è una forma di piageria per il sette per settimo secolo di anniversario della sua morte veramente lo è l'ho scoperto come dicevo un pochino in età adulto è studiato anche perché dentro ci sono molte conoscenze scientifiche il sapere di quelle di quell'epoca era in mano di poche persone era anche abbastanza distribuito nel senso tutti si interessavano un po di tutto non c'era la figura dello scienziato come è venuta soltanto nell'ottocento e quindi è interessante perché anche per capire attraverso di lui che cosa la gente sapeva quel tempo parlando di produttori di scrittori scientifici certo galileo galileo se non sbaglio era umberto efe che diceva è stato uno dei due tre più grandi scrittori italiani come scienziato come scienziato ma anche un elettrato in effetti lo consiglio a chi non lo conoscesse è uno uno scrittore brillante e porta avanti le sue tesi devo dire in questo era di famiglia anche suo padre sulla musica scriveva in questo stile però appunto galileo è uno scienziato quindi ci aspettiamo che brillante o meno scriva di scienza dante in realtà è un po lì è un poeta certo un letterato come seconda professione o professione alternativa a quella di politico che sia conoscenziato in realtà un pochino ci sta perché lo è stato però un pochino non può e non può non sorprendere deve sorprendere in effetti com'è che resta tutta questa astronomia e ho cercato prima di tutto come ad entrare nel poema perché poi potremmo vedere insieme di rispondere anche a questa domanda certo l'astronomia parla del cielo perché alla fine sappiamo non c'è non sto sciupando nessun finale l'inferno il purgatorio negli sottoterra il purgatorio che si eleva su una montagnola e poi il paradiso nel cielo quindi quindi dio sta nei cieli quindi è chiaro del sapere l'astronomia però tutto questo non giustifica completamente il sapere di dante anche perché era un sapere abbastanza abbastanza articolato e complesso e è vero che il sapere di allora era più ridotto il sapere di allora poteva stare in una piccola enciclopedia si escludono gli studi teologici che sono sempre stati sovradimensionati però anche vero che era meno facile ed è questo l'aspetto che mi ha colpito in dante come fa come faceva lui a fare conti delle ostellazioni viste da un'altra parte del mondo non poteva certo risultare enciclopedie per non parlare e questa è una metafora la stupidaggia e l'obietà per non parlare del ricorso alle informazioni di rete o all'informazione dei computer o ai programmi di calcolo tutto questo lui non lo poteva fare o sapere e invece risulta e qui ho preso come come probabilmente un esempio un altro libro è uscito sono uscite molte pubblicazioni quest'anno che è questo sui numeri di dante e non entro nella matematica sia chiaro questa è a metafora la cabala e la matematica la numerologia del resto la cabala degli ebrei è cominciata uno due secoli prima e periodo e sta considerando e io quindi non entro ma mi limito a riportare quanto scritto in quarta di copertina dall'autore il numero e le proporzioni indiano i punti e per dante sono di centrale interesse senza dubbio dimensione per numeri eccetera eccetera e di la densità semati e insevanti a profondità concettuali i numeri e le proporzioni sono i mezzi in cui il poeta certifica e inquadra la sua opera come parte della creazione divina divina lo si capisce dal contesto non ho riportato tutta la frase quindi sembra bella struttura che io pensavo sempre supposto fosse una struttura sostanzialmente astronomica a parte la parte teologica e la parte letteraria la parte poetica e che viene fuori che invece i matematici o i numerologi considerano la matematica una numerologia una struttura portante poi si va ancora a vedere cos'è stato pubblicato in quest'anno che ha rilanciato gli studi su dante per esempio ho trovato questo che contesto classico ristampato di recente dante il mondo il luogo geografico della divina commedia c'è vero è vero in quel periodo ci sono tante conoscenze nuove di tipo anche geografico e dante sembra di conoscerle vedremo il limitato come si dice backyard in inglese il limitato giardinetto giardinetto orto in cui si è mosso dante tutto sommato e parla di cieli e di spazio non ha mai visto e ho trovato anche dei libri di gastronomia su dante non so come ma esagerando un po quest'anno ma in effetti dante si è occupato e sembra aver posseduto non soltanto conosciuto ma posseduto informazioni in tantissimi campi scientifici da dove ha venuto fuori cominciamo dall'astronomia e quella ci interessa quindi non solo astronomia ma è quella che ci interessa intanto il rapporto con l'astronomia non era quello di oggi per secoli è stato ben diverso perché lo sappiamo che le coltivazioni l'orientamento i viaggi la navigazione non ultimo anzi anzi e non ultimo importantissimo l'effetto astrologico la componente astrologica perché dagli dagli assi poteva dipendere il destino degli esseri umani o addirittura di internazioni e non soltanto ai tempi di dante ho preso come esempio proprio per sintetizzare al massimo un esempio del secolo scorso per tutti questi anni prima di dante ovviamente ce l'immaginiamo ancora di più ma anche nei secoli successivi a dante il rapporto fra l'uomo di strada tra il personaggio semplice fra la vita sociale e l'astronomia è stato molto più forte di quello e di cui siamo abituati adesso nonostante abbiamo gps abbiamo i programmi automatici computer i planetari gli osservatori a disposizione del pubblico nonostante la diffusione della cultura scientifica il rapporto al cielo molto più profondo ho preso come esempio stupido una volta questi sono significativi questo regolamento urbano che ho trovato per le mie carte sull'accensione lo spegnimento delle antenne pubbliche del 1857 quindi di Firenze quindi diciamo un secolo e mezzo fa e nello stabilire i lanternai quali lampioni dovessero spengere o accendere c'è scritto che non so se si legge ma sono vero dipende dalla dalla fase lunare e all'interno della fase lunare quanto questa fase efficiente in funzione del tempo e poi alla fine ci sono tutte le tabelle che il buon lampionario deve avere presente con le fasi delle lunazioni e quello perché mi ha sorpreso perché se oggi il nostro buon sindaco diciamo così nardella di Firenze disse a un qualche impiegato e deve muoversi o fare avere compiti simili in ambito cittadino un manuale che si basa su conoscenze astronomiche che poi la luna e tutti gli esempi tra tutti i fenomeni astronomici è il più immediato è facile capire ma adesso qualche cosa subito ci sarebbe una levata di scudi perché deve conoscere un'astronomia per accendere i lampioni cent'anni fa questo sembrava ovvio quindi si è perso adesso è l'ultimo secolo secolo e mezzo in questo rapporto con il cielo si è perso prima c'era è tanto più profondo quanto andiamo indietro e quindi ai tempi di Dante l'astronomia che Dante sapeva era l'astronomia in buona parte non sofisticata ma come conoscenza almeno formale l'astronomia classica diciamo quelle avevano la maggior parte dei suoi contemporanei c'è stato un altro fenomeno quindi questo partiamo con l'idea di un personaggio che conosce l'astronomia in una società che conosce l'astronomia molto meglio di quanto la gente non la conosca adesso oggi sappiamo certo su quasa sulle galassie a quel tempo però sapevano meglio calcolare la posizione delle stelle e orientarsi eccetera l'altro fenomeno scatenante diciamo così e vabbè questo è banale beatrice questa questo quadro ovviamente è un finto grossolano basta beatrice questa in giallo al centro basta vedere l'aspetto da cantante sciantosa o che direbbero a napoli della signorina sulla sinistra di rosso è un quadro di fino ottocento non so se avete fatto a tempo a leggere di un certo holiday ed è un quadro evocativo si sono fatti apposta per per fare un po' una sceneggiata però superficiale perché se ci fate il caso dietro per chi conosce firenze c'è il ponte vecchio ora essendo astronomo e rivolgendomi a degli colleghi affezionati dell'astronomia faccio presente avete presente cosa c'è su ponte vecchio su ponte vecchio c'è un orologio solare che questo c'è una la c'era una lapide la lapide purtroppo è stata cancellata dalle ingiurie del tempo e sotto c'è scritto nel 33 dopo il 1300 ci fu una una flada un alluvione che distrusse buona parte del ponte 1333 poi 12 anni dopo come al comun piacque quindi un modo tempo romores fu rifatto e ci fu messo questo adornamento che l'orologio ancora adesso si vede non so se quelli adesso è una copia quello originale quindi il loro loio nel 1333 fu abbattuto il ponte siamo nel 33 dopo la morte dopo la morte di dante nel 45 fu posizionato l'orologio solare e però quando fu rifatto fu rifatto a tre cose a tre navate navate scusate a tre campate ai tempi di dante era cinque campate il nostro bravo pittore così preoccupato e darci l'atmosfera un po poeristica dell'incontro fra dante e patrice non si è informato sul ponte era fatto in altro modo ma a me ne avrebbe dovuto leggere la lapide c'era sul ponte vecchio all'orologio solare beatrice dunque patrice è l'elemento chiave della letteratura di interpretazione e anche in qualche modo l'elemento fertile di tutta la poetia dantesca di buona parte la quantità dantesca perché ma faccio usiamo anche noi qualche effetto un po speciale per adeguarci alla alle circostanze muore nel 1290 muore di parto po più che ventenne cosa purtroppo a quel tempo abbastanza comune che cosa sta facendo da anni quindi dante in quegli anni ci risulta che pochi anni prima era stato a bologna che probabilmente aveva frequentato a bologna c'era già un'università un centro universitario uno studio come si dice abbastanza importante era soprattutto per gli studi giuridici ma non soltanto questa bologna era partita come dire in anticipo rispetto al sapere delle altre città firenze non se ne parla perché firenze l'università di firenze ha poco più di cento anni quando quello di bologna si sta avvicinando ai mille quindi confronto impietoso bologna invece c'è questo questo studio già abbastanza attivo e lì potrebbe aver incontrato e conosciuto avere imparato le cose poi gli servono e che metterà in mostra nelle opere che presenta dante sicuramente aveva un'eccezionale capacità di imparare eccezionale e aveva probabilmente un altrettante eccezionale memoria e questo serve tanto una buona memoria è in metà della conoscenza lo dico io che spesso anche quando facevo lezione dovevo rileggere i miei testi perché ho memoria zero e quindi tutte le volte praticamente devo ricominciare quasi da capo non avendo memoria si deve studiare in continuazione lui è dante poi mente aiutato perché si ricorda queste cose quando viaggiava non aveva sotto mano se non quello della sua memoria gli forniva a parte le biblioteche delle corte dove si trovava tutto lui dimostra di sapere molto di più degli eventuali libri trovava il giro quindi aveva già cominciato prima della morte di beatrice dante si è già un po interessanti interessato al sapere quello che oggi chiamiamo il sapere superiore poi appunto l'evento tragico mi piace tutto quanto parlo dell'università di bologna dello studio di bologna mi piace ricordare perché veramente molto carino questo è il sacrofago funebre che non è più nella chiesa adesso è stato portato il museo civico di bologna di un certo alberto di legnano mi sembra o giovanni di legnano alberto di legnano che è stato uno dei più grandi giuristi giusto appunto dello studio bolognese e quindi cosa hanno mostrato su questo gli studenti dell'università di bologna tra l'altro casualmente ma quello di sinistra vedete qui nell'immagine sta scrivendo leggendo in qualche modo un po di naso un cappellino simile o di sinistra o di sinistra assomiglia anche un pochino a dante quindi ce l'immagino eventualmente ce l'immaginiamo seduto con i suoi bravi libroni davanti libroni manoscritti ovviamente che ascolta qualche lezione si forma le prime basi del suo sapere e poi torna a firenze di nuovo possiamo leggere insieme la crisi morale lei fa scorrere insieme e preferisce come dire trovare consolazione nel sapere cosa peraltro abbastanza comprensibile ma è alla fortuna di trovare a firenze non università abbiamo detto lo studio fiorentino comincia a metà a metà ottocento l'università addirittura a il primo studio no poi qualcuno riascolta e magari obietta il primo studio risale tempi di medici ma il tempo al tempo di medici indicano non sta bene gli studenti universitari stiano a firenze fuori dalle scatole vadano a pisa per vari motivi la scusa ufficiale che c'era penuria di sta di case vecchi argomenti e troppe distrazioni il vero studente sta nella piccola cittadina di pisa e studia lì quindi fine quattrocento però poi in realtà lo studio vero e proprio parte a metà ottocento l'università come dicevo parte a inizio novecento 1924 ma c'erano degli studi c'erano degli studi in senso generale cioè non nel nell'accezione abbiamo dato fino adesso dei dei scenacoli in cui si si scambiavano le conoscenze in cui si approfondivano si discutevano i testi due soprattutto lo studio francescano di santa croce specializzati in lettura e convento di agostino dei padri della chiesa e dei mistici e lo studio domenicano santa maria novella questo soprattutto forse ha formato dante dove si studiava aristotele con l'aiuto dei commenti contemporanei allora di teologi di contemporanei alberto magno e tommaso d'aquino e agostino mi riallaccio brevemente a quanto dicevo prima agostino è stata una persona e molto si è pronunciata sui numeri anche in senso negativo dice attenzione matematici perché potrebbe aver stretto un patto col diavolo per confondervi le menti però di fatto nei suoi scritti ci sono molti riferimenti ai numeri non fa un trattato generale va come dire tirato fuori quella il suo pensiero quindi se poi un matematico mi trova nel libro che ho mostrato prima una struttura numerologica all'interno della delle opere di dante ecco beh probabilmente dentro ci sono delle inseminazioni e vengono direttamente da sant'agostino dante invece più interessato forse alla parte della fisica la parte del cielo aristotele quindi rivisto da alberto magno rivisto commentato sappiamo anche reinterpretate in qualche modo a Tommaso d'Aquino e per due anni e mezzo come afferma nel convivio quest'opera generale e poi verrà interrotta per scrivere giusto appunto la Divina Commedia ci dedica appunto in questi in questi nel frequentare queste questi scenacoli questi gruppi di studio lui ci dedica due anni e mezzo e direi in modo proficuo della sua della sua vita tanto che poi ricorderà proprio nel paradiso questi che mi attesta più vicino frate maestro fumi ed esso alberto è di Cologna ed io thomas d'Aquino alberto magno e thomas d'Aquino questi maestri lui li ricorda e proprio nel paradiso gli dà una collocazione particolare quindi è stato uno studente proficuo che sia applicato e che anche riconoscente verso i propri maestri quindi conoscenza del cielo diffuso come era diffuso a quel tempo conoscenza pratica ma solida conoscenza approfondita forse a Bologna sicuramente gli studi di Firenze e poi c'è delle condizioni cosiddette condizioni estrinseche qui mi sono rifatto un po' a un'opera che è dello direttore dell'osservatorio eximiliano di Firenze quindi un'opera abbastanza recente di metà ottocento nella sua operetta nel suo lavoro che sono ragionamenti sulle dottrine astronomiche contenute nella Divina Commedia perché leggiamo questa è proprio la parte corsiva l'ho presa da lui Dante fu profondo e versatissimo astronomo e in che non era egli versato e profondissimo domanda retorica ma che ci sta bene a rendere l'esimio cultore della scienza degli astri concorsero delle condizioni estrinseche cioè il momento giusto e tutto questo mi convince se si legge la storia di Firenze e in chi riceve il mio bollettino gli ultimi qualcuno degli ultimi numeri è stato dedicato un po' alla storia di Firenze del tempo si vede che la Firenze che conosciamo la Firenze che tutti conoscono la Firenze delle guide è stata tutta realizzata durante l'arco temporale quasi tutta il 90 per cento della vita di Dante fra fine 200 inizia il 300 viene fa in cui sono anni straordinari per le realizzazioni che si fanno e lo sappiamo il sapere le attività umane sono interconnesse se l'economia va bene allora anche l'architettura va bene anche la cultura va bene la poesia va bene e lo sviluppo e lo splendore di Firenze di quegli anni sicuramente ha avuto un feedback positivo anche nella cultura e nelle preparazioni di Dante nelle condizioni estrinse nel momento d'oro diciamo così della poesia dantesca lui trova alcune alcune due ne trova varie ne ho selezionate due che sono quelle più importanti il fatto che si coltivasse l'astronomia a livello più che così diciamo semplice osservativo già prima di Dante a Firenze e il fatto che ci siano state delle oggi demo dell'occasione editoriale cioè dei libri sono sopraggiunti in momento giusto qual è questa tradizione fiorentina lo gnomone di San Giovanni sapete che a Firenze esistono vari gnomoni uno è suo a San Mignato uno è questo giusto appunto del Battistero cioè o c'era due sono addirittura nella chiesa di Santa Maria Novella e lo lascio in fondo perché dulce in fondo è quello che ho gestito per 10-15 anni che è quello nel Duomo di Firenze nella cattedrale di Santa Maria del Fiore che è il più grosso e più importante fino a sto a più grande del mondo insomma più grande uno dei più grandi strumenti se lo interpretiamo in questo senso strumento astronomi del mondo che non abbiamo fatto per stando perché per il secondo anno consecutivo questa stupida storia del virus e ci ha bloccati tutti si speriamo di ripartire l'anno prossimo e c'era anche in San Giovanni un ognomone perché non ci deve stupire l'abbiamo detto l'interazione con i fenomeni astronomici era quotidiana perché serviva a misurare tante cose e intorno all'anno 1050 nel Battistero certo un certo strozzo strozzo in presattezza se ben ricordo nel 1048 quindi ancora un pochino prima posiziona quello che vedete nell'immagine di sinistra che è uno uno una fascia zodiacale un rosone zodiacale e la chiusura del Battistero è abbastanza recente era era stato lasciato aperto c'è dentro ciascava il sole e anche la pioggia volendo quando pioveva c'era questo rosone sembra che quando si aveva il sostizio estivo la luce che penetrava attraverso il foro sulla sommità del tetto cadesse esattamente sul segno del cancro da che cosa si deduce questo e perché non si può verificare adesso beh si deduce dal fatto che fu fatta una coppia gemella che si trova in nella basilica di san miniato sopra il piazzale michelangelo e ha un funzionamento particolare diciamo così non sto entrare dentro non ci interessa ma insomma quando quando gli uomoni potranno ripartire davanti a un pubblico un pochino nutrito vi consiglio di vedere quello che faremo noi a santa mela del fiore e poi eventualmente andare a vedere anche sulla san miniato quindi ce ne è uno simile e questo non è stato spostato invece la sorte dello spostamento è successa qua dentro non non si sa perché forse motivi di lavoro forse qualcosa aveva perso significatività e quindi tanto voleva spostarlo perché non era più preciso insomma non sappiamo che cosa sia successo però di fa dove adesso dentro la porta del paradiso quelle di diverti del battistero dove adesso sicuramente non serve a niente perché dire la luce del sole non arriva al momento giusto era uno strumento astronomico ma è sicuramente testimonia degli strumenti astronomici sembra una specie di merletto lavorato lavorato a traforo a tombolo tutto ricamato e invece di marboni dei cali e nel cerchiettino giallo c'è proprio la costellazione del cancro al centro c'è il sole intorno al sole c'è questa questa frase una delle primissime frasi che si conoscono che è una frase palindroma cioè si può leggere una delle rare frasi completi hanno senso per cui il mio punto di vista tutti dicono è un ognomone e quindi d'uso astronomico e lo stesso antonelli ce lo rivendo metalli testimonia un'astronomia presente in città in modo col colto in modo solido secondo me ci aveva in realtà anche effetti significati o valenze astrologiche perché se no la frase palindrome al centro non non si giustifica più di tanto ma e comunque interessi astronomici sicuramente c'era in città poi con che spessori con che finalità lo lo lasciamo approfondire agli studiosi del settore quindi un po tradizione c'era abbastanza tradizione c'era c'era un sapore diffuso in tutta la popolazione di astronomia e poi appunto queste pubblicazioni e appaio in quegli anni l'almagesto che c'è al magesto il maggiore l'opera più completa di astronomia che era fosse mai stata scritta fino a quel momento e che non sarà scritta così completa e complessa per i successivi cinque secoli mezzo millennio la sintassi matematica di tolomeo e arriva ed è stata scritta nel secondo secolo dopo cristo però scritta in arabo arrivare in italiano ci arriva giusto appunto negli anni in cui qualcuno lo poteva leggere fra questo e dante se discutere nei scenacoli come quelli e dante frequentava è talmente complessa che nessuno osa metterci le mano si vede che è sprecisa e che qualcosa non torna con l'andare dei secoli fenomeni astronomici sono lenti hanno come direbbero quelli dell'accademia del cimento sono fenomeni infingardi in un certo senso quindi occorre aspettare secoli e dopo vanno retti però correggerli è difficile che plero è il più grande matematico europeo quindi praticamente mondiale dopo tolomeo e quindi lui soltanto sarà in grado di correggere trovare le sprecisioni non errore sprecisione correggerlo e riproporlo nei suoi lavori di inizio seicento in particolare confermare quello che tolomeo riportava e che risaliva addirittura il parco secondo secolo prima di cristo che è la precessione c'è questo strano movimento di trottola che stiamo parlando a delle persone si interessano di astronomia quindi non entro in dettaglio più di tanto questo momento di trottola che fa apparentemente ruotare i cieli attraverso le stagioni e quindi attraverso l'anno e ruotando i cieli ruotando la terra questo significa che le stagioni scorrono all'indietro attraverso l'anno il lavoro di iparco l'aveva denunciato il lavoro di tolomeo lo formalizza che plero conferma che plero finalmente la pietra solda e ci interessa al conferma appaiono anche le tavole alfonsine le tavole di alfonso decimo di castiglia che erano state completate addirittura se non sbaglio da una cinquantina di astronomi un cuore enorme perché erano erano delle effemeridi cioè le posizioni delle stelle non solo la nascita e il tramonto il culminare del sole o della luna le fasi lunari ma tutte le posizioni esseri vivono appunto a orientarsi nel cielo strumento formidabile per gli astronomi ma strumento per i motivi che abbiamo appena enunciato strumento altrettanto importante anche per l'uso anche per l'uso comune tanto che le userà e saranno ancora valide sono del 1256 circa userà anche cristoforo colombo quando dovrà orientarsi un aspetto che ancora adesso non è stato sufficientemente analizzato io me lo sono nel mio posto ma chissà vedremo è la figura dell'astrono navigatore tutti i grandi esploratori dovevano orientarsi attraverso il mare aperto le carte esistono le carte si sviluppano come vedremo in questo periodo le carte esistono sono i famosi portolani cioè le carte vicino alle coste non era possibile non c'erano abbastanza strumenti per fare misure esatte non c'erano abbastanza navigatori per riportare quanto osservato le carte del mare aperto sono terra di nessuno cioè il mare aperto e terra di nessuno le carte sono o inesistenti o inaffidabili che cosa c'è da affidabile il cielo quindi in questi grandi navigatori hanno spesso magellano in primis un navigatore che gli aiuta a trovare la rotta giusta nello stesso periodo appare anche il de sfera mundi anche questo è antecedente questo italianizzato in sacro bosco giovanni sacro bosco hollywood che che non solo pur essendo già vecchio di un secolo secolo e mezzo non solo è ancora attivo ma è stato trovato nella biblioteca di galileo perché si leggeva un libro di testo il libro di testo di astronomia è il sacro bosco e chi ha visitato e ha avuto l'occasione di visitare la mostra abbiamo fatto anno scorso a siena all archivio di stato palazzo piccolomini per prestigiare i cento anni della società astronomica avrà notato che non solo c'è il sacro bosco ma ha sottolineato e ha segnalato che era un'opera della biblioteca di galileo sono tutte opere come dire sono tutte opere fondamentali che appaiono per la prima volta in lingua italiana o comunque in latina ovviamente negli anni in cui galileo per la prima volta negli anni dante si sta interessando alla scienza del cielo vedete infatti in questa in questo capolettera c'è una una signora vestita sembra quasi la madonna col col manto azzurro che in realtà è l'astronomia sta indicando al ai suoi lettori del gruppo dietro lo stuolo dietro le stelle del cielo sta indicando l'astronomia questo è un capolettera preso da uno di questi libri che vi dicevo e compagno in quel periodo c'è ancora un'altra opera questa è un po in meno nota di fortuna sono riuscito a procurarmi anche questa cosa andrà andrà un po approfondita questo ristoro dare il ristoro da rezza il nome originale poi frequentando firenze il nome era stato cambiato il ristoro da rezza comunque il nome alla fine quasi rilevante si sa pochissimo di lui probabilmente era un nome di clero poteva aver avuto anche un livello di responsabilità quindi un presbitero come anziano proprio come incarico e scrive un trattato completo di geografia astronomia in lingua volgare che vediamo i volgari quando parlo di italiano ovviamente mi riferisco a volgare non certo l'italiano stiamo adoprando noi adesso quindi l'opera è un latino e volgare compare questo scritto erico volgare la composizione del mondo e le sue cascioni e dentro c'è non solo tutti i punti di vista di questo ristoro da rezzo ma lui riporta il pensiero degli autori maggiori del mondo classico e anche quelli dei naturalisti arabi averroè avvicenna aristotile quindi attraverso quest'opera possiamo vedere quanto del sapore pre del sapere precedente al periodo dantesco quanto il sapere precedente veniva riportato veniva reso fruibile da dei personaggi di quel periodo e tante aveva letto anche quest'opera l'opera vedete è abbastanza vecchia del 1882 quindi scritta da un contemporaneo di dante perché quando nel suo periodo di esilio quando si trova a visitare varie città complessa perona abbiamo trovato traccia proprio di una sua discussione confutazione in base a teorie aristoteliche nel 1320 quindi l'anno prima di morire delle opinioni di questo ristoro da rezzo dante leggeva era informato leggeva ripeto si ricordava la questione in particolare lui cerca di confutare è e forse qualcuno si ricorderà da lì da ricordi di scuola superiore dagli studi di scuola superiori se in qualche luogo è possibile che l'acqua si trovi a un livello superiore a quello della terra c'è di me tutta la questione di di quattro elementi di empedocle che vedremo e quindi tanto per dire abbiamo un altro un altro un'altra traccia dell'interesse veramente del modo onnivoro come si dice oggi verso il sapere l'approccio onnivoro di dante verso il sapere scientifico in particolare ancora sempre in quegli anni lì era stato scritto tra il 98 99 non ricordo gli anni il mai è stato scritto in una lingua abbastanza strana che era metà fra il francese il veneto il milione di marco polo e per per mano di riordate rustichello da pisa e compare guarda caso nei primi anni del trecento compare anche una traduzione in lingua toscana di nuovo quindi un altro libro importante per conosce dante parla dell'india parla dell'est in india marco polo non c'è stato ma parla dei paesi più esotici più verso oriente sicuramente può aver letto e sicuramente ha letto se ha letto sicuramente si ricordava anche qualcosa del milione ma a volte dante non leggeva tutte le opere complete ma gli bastava avendo un'intelligenza vivace sembra gli bastasse leggere qualche estratto qualche capitolo per farsi un'idea abbastanza generale e poi un altro grande amico di che è sepolto qui in santa maria maggiore a firenze brunetto latini più anziano di lui ma una persona dal carattere enciclopedico in francia scrive questo negli anni che nasce nasce dante torna 1260 metà degli anni sessanta del 200 scrive anche una specie di enciclopedia in cui c'è un po di tutto non è ancora un sapere strettamente organizzato però significa che la persona brunetto latini voglio dire era persona colta ad ampio spettro come poi cerca di diventare come poi diventi riuscirà a diventare anche tante negli anni settanta rientra che sappiamo che poi ha condiviso molta delle sue esperienze delle sue giornate con dante fino fino a chi è stato esiliato quindi dante conosceva sape conosceva per quelle suoi mezzi conosceva molto del mondo antico e del resto ce ne lascia traccia nel convivio è quest'opera abbastanza generale in cui cerca di rassumere un po vari aspetti di filosofia di letteratura accenna proprio alle alle grandi scuole il più rei stoici per i paterci soprattutto la scuola legata a aristoteli e conosce ovviamente attraverso queste figure che avranno discusso nei cenacoli che dicevamo prima conoscere le loro cosmoconie c'era stato un periodo in cui periodo storico una corrente filosofia una scuola se volete in cui la terra era stata spostata da dal suo posto logico quello indicato dai sensi centro dell'universo non aristarco di sama l'ho messo sotto per essere per per evitare confusione aristarco di sama del terzo secolo qui siamo nel quinto secolo queste idee che ci debba essere un fuoco spiegare le stelle non è facile lo sappiamo non lo è neanche oggi in modo completo e totale figuriamoci cosa poteva essere nel quinto secolo avanti cristo quindi esisteva il fuoco nell'universo esisteva un fuoco che stava al centro e fino là fa questo modello addirittura in cui c'è un fuoco che è invisibile perché la terra si comporta un po come venere che ha il moto di rotazione moto di rivoluzione praticamente sincronizzati quindi la terra vede sempre il cielo non non la terra voglio dire terrestri gli abitanti terrestri gli abitanti della fascia della terra delle terre emerse che si chiama l'ecumene cioè noi in pratica il mondo conosciuto a quel periodo vedono sempre il cielo dalla parte opposta grande fuoco e allora cos'è il sole una specie di un corpo riflettente un corpo particolarmente riflettente ma la luce non è sua viene da questo fuoco centrale un tentativo di come dire di mettere la terra di giustificare anche la verità di cose osservate in certi movimenti apparenti certe prospettive la terra non è ferma non avrà successo lui introduce anche un'antiterra altrettanto invisibile perché si trova messa sempre da alle spalle dell'ecumene e di nuovo però quando quando nella nella filosofia e dante studia e nel sapere che arriverà fino a dante la posizione questa la terra e al centro i modelli che hanno prospettato la diversa collocazione modelli non geocentrici non hanno avuto fortuna per vari motivi e qui lo stiamo approfondire ma possono essere anche abbastanza ben comprensibili conserva anche le quattro basi vedremo una tavola di mente le fa quattro elementi del del filosofo di agrigento che sono i quattro elementi l'aria l'acqua e il fuoco aria acqua terra fuoco e vediamo se riesco ad andare avanti ecco e l'altra cosa quindi che tra l'altro perché queste cose sono più complesse di quanto non non si dice dall'esistere quattro elementi quali si muovono o verso l'alto e verso il basso il fuoco va verso l'alto l'aria verso l'alto la terra e l'acqua vanno verso il basso e verso il basso la terra ci va più dell'acqua così come farà il fuoco rispetto all'aria nell'elevarsi e ci sono varie implicazioni per esempio il fatto che ci può esistere non possono esistere altri pianeti abitabili perché se ci fossero altre terre dove andrebbero l'aria e l'acqua e la terra devono andare verso il centro del pianeta ma se ci sono vari pianeti come dire mettete in imbarazzo il fuoco non sapete che parte andare di quale alto deve a quale altro deve riferirsi e così come il vuoto alla famosa espressione che arriverà fino a cartesia natura or it vacuum la natura non può avere il vuoto di nuovo perché questi quattro elementi in presenza di vuoto personalizziamo un po' sarebbero sgomenti non sanno da che parte andare quindi vuoto non può esistere altrimenti stai mettendo in discussione le stesse quattro basi la stessa tavola di Mendelef a quattro elementi come l'abbiamo chiamata che costituisce tutto l'universo e poi le sfere un po' matrioska le chiamo così ma le sfere di odosso in questo in questo tentativo di spiegare i moti complessi celesti che tutto sono fuorché un orologio fuorché un orologio come viene ricordato preciso erano varie sfere collegate fra di loro tutte e tutte omocentriche però mi incastrate incastrate con gli assi di rotazione messi tutti spostati rispetto a quell'altro in modo che dal moto di una si poteva avere poi molto tutti per le altre ma che non era direttamente riconducibile non so se riesco a spiegarmi ma vedo che sta facendo tardi quindi spero che vi basti il disegno se ciascuna di queste un incastrate dentro l'altra ma ciascuna di queste il proprio asse di rotazione il modo in cui ruota la terza sfera è del tutto indipendente può essere anche totalmente ortogonale rispetto al moto in ruota la quinta o la sesta sfera ed era questa esattamente l'opinione di aristoteca commette un errore commette un errore perché queste erano state pensate appunto già nel quarto sbagliato non sesto secolo ma quarto secolo l'uno la limita andava dall'altra parte da odosso però erano concepite come dire dei luoghi di luoghi geometrici composti di materia questi spazi a cui queste sfere su qui si muovevano i vari pianeti erano impalpabili non c'era niente di fisico rispondente e qui preso dal dal furore eccessivo aristotele fa diventare delle sfere di ristallo soldo e sappiamo e sappiamo quante cosa succederà quando ti coprai si accorge e dice ma queste commette secondo me vengono da lontano come che lo fanno attraversare le sfere soldi di aristotele che sono proprio dure dure compatte non sono dietere uno spazio virtuale no sono proprio belle toste come fanno le comunità attraversare queste sfere non esistono ma tricuberai e nel 1600 dobbiamo ancora aspettare molto queste sfere appunto erano quelle che aristotele con questa svista questo lapsus di rendere soldi aveva preso appresto e tramandato al sapere successivo aristotele non sto a ricordarvi l'espressione come ho citato un passo è come quando si parla perché abbiamo la conosciamo tutti anche fin troppo bene il maestro eccetera eccetera come quando si parla di tempo e qualcuno ci cita l'espressione di sant'agostino se nessuno lo chiede eccetera basta abbiamo veramente abbiamo le orecchie usurate da sentire ripeto certe frasi stesso discorso su quello sul modo in cui dante definisce giustamente ma definisce aristotele allora in particolare aveva detto pare scienze formato leggeva si informava in questi scenacoli era persona estremamente aperta e ricettiva e lo si lo si vede anche da questo convivio che comincia a scrivere nei primi anni in esilio che viene definita un banchetto di cultura espressione un pochino volgare ma insomma rende un'idea un'encilopedia poetica della cultura medievale si sente il bisogno di fare un po il punto della situazione di descrivere lo stato dell'arte delle conoscenze anche perché stanno arrivando si stanno riscoprendo le conoscenze arabe e le conoscenze greche e da più lontano anche certe conoscenze indiane quindi per fare punto la situazione come vedete stanno comparendo le conoscenze europee fra le varie scienze in cui ripeto dante era abbastanza esperto per quello che i tempi e mezzi consentivano sicuramente l'astronomia gioca un ruolo particolare e ce lo dice lo leggeremo insieme sia perché per l'inferno il paradiso ma anche perché la ritiene una come dire il massimo raggiungimento della mente umana lui disprezzi ignorando il political correct disprezza gli ignoranti beato lui e scrive nel convivio l'ho ricontrollato a giumeriggio perché veramente scrive idioti non scrive sciocchi scrive idioti e di questi cotali sono molto sono molti idioti che non saprebbero l'abc e vorrebbero disputare in geometria astrologia in fisica quindi queste sono le scienze top secondo dante e in particolare l'astronomia si colloca sopra gli altri che sono questi idioti sono quelli come dice che non si vogliano mai allontanare da verità nessuna cioè quelli che hanno loro i colori pregiudizi diciamo chiaramente e che fanno come dire dei ghiribizi mentali come dire dei sofismi diremmo noi perché vogliono confutare tutto bene questi lui li liquida in poche parole sono degli idioti e non conoscono neanche le scienze di base e sempre nel convivio in secondo libro scrive fra le tre fa una scelta geometria l'astrologia e fisica ha notato in cui astrologia non significa necessariamente l'astrologia come la intendiamo oggi c'è quella cosa vergognosa e qui lo voglio sottolineare pagata con i soldi delle mie tasse da un governo ignobile in una televisione ignobile perché questi che ci fanno gli oroscopi nelle televisioni pubbliche sono pagati i miei soldi da anni combatto una una battaglia che non mi porta a nessuna parte me lo devo fare ho il dovere morale di farlo e che tra l'altro non hanno neanche con chi legge il mio bollettino lo sa che le mie continue sparate che non hanno neppure saputo prevedere il virus il copit che ha bloccato il mondo e si sono giustificati dicendo ah no però è in noi però non te lo devi permettere allora l'astrologia invece al tempo di dante era quella che stabilì era la conoscenza degli astri e talvolta veniva utilizzata l'astronomia per indicare invece quella era il legame la scienza del legame fra natura e astri quindi i significati a volte erano scambiati quindi quando l'indoleggiamo astrologia o astronomia aveva visto il contesto in cui nel 300 400 si intendeva queste cose l'astronomia nel senso intendiamo noi più che alcune di nuovo il convivio più che alcune delle sopradette arti e nobile e alta per nobile soggetto che lo è da movimento del cielo e alte nobile per la sua certezza perché si basa su fatti su dati su misure la quale senza difetto siccome quella è da perfettissima e regolarissimo principio viene beh qui lui diciamo in qualche modo un poesaggio dice siccome stiamo parlando del cielo il cielo è opera diretta del creatore non è contaminato come la terra come l'ambiente sublunare dalla dall'attività umana quindi tutto è pure perfetto allora che l'astronomia deve essere pure perfetto è un'apertura di credito un pochino eccessivo poi ingenua però la sua convinzione l'astronomia se il massimo del sapere la esprime senza alcun dubbio e del resto le suo affetto affetto in senso intellettuale profondo e il convivio proprio quando il primo capitolo il primo capoverso del convivio si apre proprio in queste parole la scienza è l'ultima perfezione della nostra anima nella quale è stata la nostra ultima felicità di tutti naturalmente al suo desiderio siamo soggetti su quest'ultima frase avrei qualche dubbio ma sentir parlare di scienza nei modi in cui poteva concepirla un personaggio del 300 indubbiamente colpisce denota una figura un intellettuale un uomo di culto uno studioso molto particolare quale dante di fatti era che cosa viene fuori lo schermo lo schermo è questo sette cieli li vedremo vedremo più avanti quindi non lo sto discutere adesso i cieli e poi sopra le stelle fisse promobile cosa mi sono permesso di fare una cosa perché quando faccio queste presentazioni mi devo mi devo convincere anche un pochino divertire se permettete e c'è una pubblicità che da circa 30 anni mi ha colpito perché è una pubblicità intelligente forse ve la ricordate quelli meno giovani di noi se la ricordano questa era la pubblicità di una marca di pneumatio pirelli si può anche dire e vi ricordate era era uno slogan molto molto ben trovato che diceva la potenza senza controllo e nulla e certo se questo è carl lewis anche questo forse ricordo di vecchie olimpiadi se un personaggio una figura eccezionale dal punto di vista del carl lewis avesse corso con i tacchi a spillo certo il suo controllo sulla pista sui propri muscoli era praticamente inesistente un atleta eccezionale non sarebbe servito a niente ho parafrasata la cosa e avrei detto la cosmologia è nulla senza la matematica chi fa una cosmologia a cui diciamo sia un po' d'effetto già si capisce il personaggio non mi stassi non gode della mia massima stima aristotele se non fosse stato se fosse stato solo per aristotele non arrivava ai tempi di dante e ai tempi di dante ma è tanto meno ai tempi di galilea come di fatti e anche dopo come di fatti succede però a due fortune aristotele bella prima ovviamente non è stato uno stupido il suo lavoro è apprezzabile ed è un passo avanti rispetto alla struttura alla struttura del paese del sapere contemporaneo trova trova qualche dunque quanti tre quattro secoli dopo trova tolomeo questo che abbiamo citato che scrive l'alma gesta il maggiore opera di matematica del tempo di molti tempi di molti secoli e tolomeo fa un macchiaggio ma non un macchiaggio formale fa una una make up di tipo matematico gli da quella struttura che aristotele mancava e che gli permette di attraversare i secoli e allora il modello aristotelico tolemaico va aggiunto perché da solo non avrebbe non sarebbe durato tanto e quello che attraversa attraversa quasi un millennio ad arriverà una volta già aveva alle spalle quattro secoli con le implementazioni di tolomeo con i calcoli tolomeo di questo grandissimo matematico africano arriva a superare i quattordici secoli che arriva dante qui siamo con tolomeo siamo nel secondo secolo 2 cristo nel 1600 ci sono le opere di dante e non verrà come dire subito sconfitto o confinato il sapere aristotelico tolomaico veramente ancora un po e poi avrà l'appoggio ovviamente della scolastica cioè la reinterpretazione dei concetti aristotelici in modo da convertirlo in questo senso da renderli compatibili da rendi compatibili col pensiero cattolico e questo di nuovo è un asset tanto per usare un termine sportivo importantissimo che rende questa teoria valda per un millenio quasi un millenio anzi in totale oltre un millenio e mezzo allora entriamo l'astronomia poi lo sapevo e tanto sforavo e quindi fatemi scendendo quando ne avete abbastanza i riferimenti astronomici lo leggete sono per fissare i tempi per definire l'orientamento per spiegare gli effetti che dante percepisce nello spostarsi attraverso l'inferno attraverso il procatorio poi in paradiso e anche per dare una sequenza temporale quando impostato questa presentazione avevo detto beh allora questo punto chiariamo cos'è l'orizzonte l'altezza l'azio siamo in un ambito astronomico quindi i nostri ascoltatori gentilissimi e tollerantissimi sanno come di cosa stiamo parlando quindi non definiamo me o il questa volta aggiunto un nonno e ho tolto di mezzo tutte queste parti dopo è scontato del resto quello che risulta l'impressione al saperi comune non è poi per quello ci interessa adesso che ci serve adesso non è poi tanto diverso da quello che c'è utile per capire cosa sta succedendo perché questo non ok allora l'astronomia entriamo un pochino sistema vicino ci stiamo avvicinando lentamente corso purtroppo lentamente sta avvicinando le ore civile sono dei rifiuti al sole quando diciamo a mezzogiorno il sole era un simbolo siamo in un'epoca fortemente simbolica come l'erano stati anche alcuni dei secoli precedenti ed è il simbolo della grazia divina non per nulla troviamo il simbolo del sole sulla facciata delle chiese o addirittura sugli altari con le dovute come dire modulazione di carattere cristiano però il simbolo era rimasto il dio il sole fonte di vita dio è fonte di vita quindi in qualche modo l'associazione sole che dio c'è e usare all'inferno le ore basate sul percorso del sole attraverso il cielo sarebbe stato blasfemo come pronunciare il nome di dio nel regno del peccato quindi non si possono utilizzare le ore non si può dire mezzogiorno o le due dopo mezzogiorno eccetera come come si fa allora beh allo stesso modo solo che anziché scegliere la stella sole si scelgono le altre stelle il comportamento esattamente lo stesso orologi stellari orologi solari si comportano allo stesso modo guardano la rotazione attraverso la volta celeste di questi corpi luminosi quindi in linea di principio perché no va benissimo allora dante descrive il passato del tempo attraverso il cielo usa il movimento delle costellazioni come un orologio naturale non ci non ci deve sorprendere e le costellazioni ovviamente servono anche indicare perché se lui dice vedo la mia destra o la mia sinistra la costellazione dei pesci o vedo venere davanti a me eccetera si capisce approfondendo un attimo l'astronomia si capisce anche in che direzione sta andando o da che direzione sta provenendo cosa ha a destra e che cosa ha alla sua sinistra quindi a doppia funzione questo è lo schema del viaggio di nuovo la partenza della selva si arriva al paradiso attraverso tutti questi cieli poi rivedremo un attimo in dettaglio velocemente e come come fa però appunto siamo sotto terra entrato da gerusalemme non lo sapete ma sotto inutile dire come fa a vedere le stelle infatti anche il titolo era del di questa conferenza se non sbaglio era l'astronomia vista dagli inferi qualcosa del genere ovviamente non le può vedere le vede virgilio per lui virgilio lo accompagna la sua guida lui ha questa lui è uno spirito dell'altro mondo ormai quindi ha la conoscenza riesce a vedere tutto il cosmo nel suo insieme e attraverso la terra ed è virgilio volta a volta dice che cosa sta succedendo e questo così come gli dirà prima di entrare in purgatorio guardi adesso è mattina sono nel centro della terra come fa virgilio ha visto che è appena diventato mattina nella parte verso il purgatorio e ne abbiamo conferma perché quando quando usa invece il plurale uscite famosa frase uscimmo a rivedere le stelle sta affermando questo io fino adesso non le avevo viste le usate ho raccontato dice questa costellazione lì la costellazione del leone o lo scorpione però non le ho viste io me l'ha detto virgilio tanto per chiarire perché sennò si chiedeva come fa domanda più che legittima altra osservazione preliminare dopo la condanna sapete viene mandato da bonifacio ottavo mentre è in missione ufficiale viene condannato all'esilio e non tornerà più a firenze sappiamo dove si muove c'è qualche qualche studioso sostiene sia addirittura uscito dall'italia arrivato a parigi non ne abbiamo prove per quanto mi risulta ma sostanzialmente l'ambito in cui si muove l'ambito nazionale in cui si muove sono quelli che vedete indicate allora vediamo ho fatto una ho cercato una mappa del tempo e riportato questa mappa il cielo poteva osservare negli anni in cui scrive la divina commedia e questo sì ma dopo lui parla del del cielo che si vede delle costellazioni stanno sopra il portogallo il del cielo e si vede da gerusalemme o del cielo del purgatorio c'è posti in cui non aveva idea non c'era stellarium da far girare su un tablet e non ne ha i libri non ricordava tutte queste informazioni quindi le aveva le conoscenze e le aveva lette neanche tutti libri avrebbero avuto a disposizione la memoria la memoria forse una certa capacità non dico di calcolo ma di elaborare un po di ricordare l'aiuto probabilmente anche di qualche occasionale al compagno di viaggio o personaggio di corti astronomo ma certo che fa impressione lui descrive tutto il cielo e si vede sopra le cumene in questa settimana di percorso attraverso le tre le tre fade dei tre luoghi inferno purgatorio paradiso ma semplicemente potendo osservare il popio che il cielo dell'italia centrale di nuovo questa è una cosa che tuttora mi sorprende e finalmente si parte sono un ultimo osservazione astronomica come vedete l'ho premesso c'è tanta astronomia in dante averla fatta in modo superficiale chiedo scusa comunque se vi sto oriando ma averla fatta in modo superficiale non avrei potuto dire di più di quello che si trova in un qualsiasi fascicolino che in questo anno dantesco si trova in cui in venti pagine vi fanno riassunte tutti non si può fare perché le cose sottili cose interessanti le cose in cui dante meste in mostra il suo sapere qualche volta anche su e le sue sviste su eroni sono proprio in questi approfondimenti quindi andava fatto in modo un po in approfondito e un primo un primo come dire un primo inghippo ce lo ce l'offre subito all'offerto per secoli quando si chiede in che anno dante descrive attraverso gli avvenimenti politici e cosa succede e da lì possiamo capire anche a che cosa si sta riferendo certi avvenimenti vengono prima certi personaggi vengano dopo ma l'inizio è quella cosa fondamentale è vero nella settimana di pasqua nella settimana che precede la pasqua i giorni precede la pasqua ma è il 1300 il 1301 lui si riferisce al giubileo il primo giubileo della storia è stato indetto da bonifacio ottavo nel 1300 quindi sembrerebbe ovvio per una persona come lui che scrive un'opera fortemente simbolica il giubileo è una cosa importante mai vista prima descrivere anzi anche la gente in filo come quando a roma nell'oltre tomba la gente in fila come quando a roma si 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 incamminava per andare verso la basilica quindi sembra abbia visto anche anzi veramente ha visto anche le persone che andavano a celebrare il giubileo però per far quando fare descrizioni astronomiche le cose non tornano più 1300 la convincente come dicevo bonifacio ottavo con la bolla a febbraio fa questa bolla sulla sull'anno speciale l'anno delle indulgenze dante ne parla in tutte e tre le cantiche riferisce di questo giubileo quindi è chiaro l'ha vissuto c'è stato era a roma conosce bene la cosa il fenomeno astronomico no parla di luna piena e beh certo luna piena è sempre di pasqua prima di pasqua però va controllato anche il sole della costellazione d'ariete venere che in quei giorni deve essere al mattino e non la sera costellazione dei pesci matte e saturno cioè ci sono tutta una serie di condizioni astronomiche abbastanza stringenti e non è che il cielo si ripete uguale anno dopo anno e neanche secolo dopo secolo in realtà se si va a esaminare tutti i parametri ce ne vogliono dei cicli sono abbastanza lunghi per avere fenomeni ripetitivi tutti questi sono relativi a marzo 1301 la scelta è si è mosso ad aprile del 1300 marzo il 1301 c'è una risposta la cosa è sostanzialmente ancora aperta ma c'è una risposta se vogliamo fare affidamento ci fidiamo di dante vediamo affidamento sull'astronomia e certo io ho fatto l'astronomo per tutta la vita quindi certi mi fide l'astronomia allora e della storia di firenze allora c'è una risposta che il 25 marzo l'annunciazione fino al 1750 è andata in piazza della signoria c'è questa lapide che dice attenzione fiorentini sempre voglia di essere un po una frangia dissidente ma dal dall'anno prossimo tutti si comincia col primo gennaio basta il 25 marzo 25 marzo era un il 25 dicembre la pretesa sappiamo non è così ma insomma facciamo finta di crederci la pretesa nascita di Gesù è nata primavera ma lasciamo vedere quindi nove mesi allora il 25 marzo è il concepimento della madonna è l'inizio della primavera c'era minozio a distanza di pochissimi giorni quindi perfetto è l'inizio di un mondo nuovo e anche l'inizio dell'anno i fiorentini se lo sono tenuto caro nonostante tutto il mondo intorno stesse cambiando fino a giusto appunto nel 1750 si era tenuto caro anche l'ora si è andata a vedere dentro il duomo il famoso orologio di paolo l'uccello che segna delle ore stranissime l'altro è un orologio ha una lancetta sola perché segna le ore dal tramonto le ore non cominciano e invece questa famosa lapide nel nella loggia dei lanzi che dice no dall'anno prossimo ci dobbiamo uniformare ma siamo nel 1750 inizio dell'anno al primo gennaio e inizio del conteggio delle ore dalla mezzanotte fine delle peculiarità astronomiche allora teniamo presente questo 25 marzo se dante se siamo nel 1301 cose intorno ai crani astronomici quando comincia il passaggio lui entra nella si perde nella selva è effettivamente il 24 marzo il giorno prima del 1301 quindi mentre tutto il mondo era già nel 1301 da alcuni mesi no il danfi fiorentini per loro quello era ancora l'anno 1300 quindi l'anno del giubileo dal 25 marzo ed esattamente il giorno dopo scatta il giorno successivo l'anno successivo e si accorda con i fenomeni astronomici quindi utilizzare la data del dell'annunciazione l'anno abincarnazione come viene chiamato permette di giustificare tutte queste cose secondo me non è come dire un escamotaggio è una cosa molto molto credibile anzi direi tutto altrimenti non si spiega le cose questo sembra mettere tutto a posto non parlo di chiedo al moderatore quanti minuti mi non c'è di ancora no no vai tranquillo non entro le queste lecumene tutto il mondo il quarto abitabile cosa c'è tagliamo prendiamo un'arancia che la terra le dividiamo in due metà e acqua e l'altra metà acqua in che proporzione metà acqua di nuovo e metà e metà e metà terra quindi le terre emerse sono un quarto perché si chiamavano anche le cumene che quello che conosceva il mondo classico mondo classico la scienza classica in questo caso arriva tranquillamente fino a dante il quarto abitabile e questo per meno rappresentato di solito veniva rappresentato come un una sfera e invece poi prevale l'idea si tratti di una forma a pare dell'epipido sono per avviso scusate a rettangolo sono così in forma squadrata angolata e e se questo però entriamo entriamo un altro campo però diciamo almeno l'accino devo farlo se questo è un quarto di mondo beh il mediterraneo è un pochino grande perché è poco meno di tutta l'asia ed è in base a carte di questo genere che colombo deciderà di andare e le indie perché c'è tutto sommato l'oceano sono i tre quarti rispetto al mediterraneo di cui dalla parte rimanente e noi in realtà caro colombo no però torna per l'appunto lui dopo lui stimola una certa distanza dopo quella distanza trova effettivamente una terra che convinto sia che l'asia non ci pensa nemmeno che l'america trova nel punto giù al momento giusto ma nel posto sbagliato trova una terra non ci deve essere merito anche di queste carte sbagliate altrimenti forse avessi saputo effettivamente quant'era distante l'india vera se non fosse esistito il continente nord americano forse non sarebbe mai partito perché l'impresa era tosta va bene la geografia la lasciamo perdere gerusalemme si trova per vari motivi si credeva si trovasse per motivi al centro di questa parte qui e stabilisce dante che l'inferno si è creato inferno enorme un imbutone gigantesco situato a poche miglia poche miglia significa circa 1700 miglia dal gerusalemme un imbutone gigantesco che è frutto della caduta di satana quando viene buttato fuori dal partito terrestre sulla terra allora si è creato da parti di là una montagna con la terra che ha come dire si è schifata della presenza di satana e ha costruito questa montagna quindi se questo imbuto e canter gerusalemme dove sarà la montagna del purgatorio dalla parte opposta agli antipoti rispetto alla gerusalemme cioè qui questa è la montagna e viene rappresentata in base anche da vari illustratori anche in base alla descrizione di tante vedete le coordinate firenze e anche siena siamo qualcosa quasi un momento ma facciamo finta quasi 45 gradi di latitudine gerusalemme più bassa più vicino all'equatore 33 gradi circa 32 e mezzo di conseguenza deve trovarsi dalla parte opposta allora sono andato a vedere dante dante non lo sapevo voglio dire non solo colombo non era ancora nato inutile dirlo ma le conoscenze su quel mondo le conoscenze su quel mondo arrivano già ai tempi di di colombo erano ancora le prime conoscenze veri lì non aveva ancora capito dove si trovavano sono delle primi decenni del cinquecento quindi cosa poteva immaginarsi e dante si immagina questa montagna andiamo a vedere cosa c'è effettivamente questa montagna prendiamo le coordinate opposte a quelle di gerusalemme che sono queste e siamo nel nulla siamo in pieno oceano pacifico e sì ci sono delle delle soline ma sopra non sotto quindi se andiamo a vedere lì caro dante non c'è nessuna montagna però non lontanissime in fondo 500 chilometri su un diametro di 40.000 della della terra non sono tanti è un qualche piccolo per cento di errori quindi a 500 chilometri concediamo gli un certo maggiore si trova effettivamente una montagna che sembra è una è una è un grumo di roccia labica e quindi sembra effettivamente non tanto grande sembra effettivamente qualcosa che se dante l'avesse visto secondo me avrebbe detto sì il purgatorio potrebbe essere qualcosa del genere tanto per orientarci qui siamo al sud della dell'isola australiane e delle della polinesia francese dove c'è il famigerato ormai famigerato opposto qualità città di papete ecco siamo siamo abbastanza più più a mare aperto e più a sud di queste località qui qualcosa è tutto smato qualcosa c'era questo per la cronaca cominciamo il viaggio e almeno vediamo un pochino dove si arriva percorso che abbiamo indicato e in modo generale l'inizio è qui gerusalemme non è non rispetta il nord e sud si capisce gerusalemme a latitudine di 30 gradi insomma messo in verticale per meglio vedere le volverse del percorso gerusalemme poi il cono la selva vicino a gerusalemme dove si è perso il cono che è quello che porta al centro della terra che è riempito dall'inferno dopodiché si trova la montagna opposta abbiamo visto in mezzo all'oceano insomma più o meno con un po' di approssimazione un po' piccina magari nel purgatorio del genere che di 500 metri non tutte tutte le anime incerte non ci stanno ma insomma e poi sopra i cieli sono otto perché ci sono sette pianeti due due tre osservazioni siamo in ambiente astronomico ma ripetita iu quanto me si dice no la luna non è satelite ma il pianeta il sole prende il posto della terra in questa descrizione della cosmologia del tema che condivisa cosmologia accettata il tempo di dante mancano manca tutto ciò che è dietro saturno urano nettuno e figuriamoci neanche a dirlo plutone poi tra l'altro è stato tolto di nuovo quindi totale fa fra satelliti e sole fa sette pianeti sono otto cieli perché va aggiunto il cielo delle stelle fisse e poi non basta c'è un nono cielo che il primo mobile cristallino primo mobile i moti dei pianeti detto forse non sempre detto in modo abbastanza chiaro il moto dei pianeti si mantengono da soli sono a costo zero usiamo un aggettivo moderno il moto definiti è sostenibile perché non consuma niente non richiede niente la detto è vero non ci pensa nemmeno ma l'ha detto di aristotele che sulla terra i moti naturali sono moti circolati sono moti rettilinei e si tendono naturalmente a fermarsi non è vero Galileo dimostrerà ma facciamo finta ma in cielo i moti naturali sono moti circolari quindi cosa serve per tenere un corpo in rotazione perenne circolare sulla sua orbita niente allora cosa serve il cristallino che è una specie di motore serve a quella a cui accendavamo prima al fatto che c'è una specie di deriva il famoso moto di trottola della terra per cui lentamente tutti i cieli sembra spostarsi perché in realtà è la terra che all'assi di rotazione che oscilla un periodo lunghissimo quindi per giustificare la precessione va introdotto un un generatore di moto che è il primo mobile e sopra decimo cielo finalmente anche la sala medievali sostenevano la presenza di questo nono cielo per spiegare il moto di precessione e sopra il decimo cielo che è quello dove si trovano le anime beate il paradiso tutto tutto lo staff per un'altra espressione di quelli che contano decimo cielo riassunto abbiamo dieci cieli di cui sette i primi sette sono i pianeti osservati certo ci sono l'ottavo è un cielo un po come dire postulato perché immagini tutte le stelle stiano sullo stesso guscio la stessa pellicola come se fosse una cipolla sulla stessa pellicola vabbè è verosimile forse non ho le prove verosimili quindi ho otto cieli che sono dati dai sensi il nono cielo è quello che non ha niente di fisicamente associato invisibile agli occhi quindi lo deduco dal movimento di precessione e il decimo che non è dato né dai sensi né di odotto la ragione è dato dalla fede dalla rivelazione quindi ci sono dieci cieli divisi in quanto rivelati in quanto accettati come dati dei sensi dall'esperienza l'esperimento l'esperienza quotidiana dall'induzione dalla logica e dalla come dire dai sensi dalla mente dalla logica e dal cuore se vogliamo metterla in questi termini che è la rivelazione delle sacre scritture si queste rapporte dettagli sulla precessione ma andiamo avanti è solo che dante la cita in un modo abbastanza carino il paradiso che questo lentamente si sfaserebbe il conto avevano fatto gli arabi e che dante prende per buono del resto non poteva fare diversamente dava una una completo ribaltamento della stagione anzi due completi ribaltamenti delle stagioni in 36 mila anni in realtà sono 25 mila 800 due completi ribaltamenti vuol dire dopo un primo ribaltamento io avrò che mi nevica ad agosto qualche volta uno se la augurerebbe anche e dopo il secondo ribaltamento di nuovo rinnevica a dicembre o a gennaio quindi il ciclo completo in realtà serve riportare le cose a posto e dura un po meno di 26 mila anni lo dirà beatrice in paradiso prima gennaio tutto si sverni per la centesima parte che laggiù è negletta laggiù sulla discarto tra il vostro modo di misurare il tempo e effettivamente il moto celeste che gli antichi si erano accorti ma era difficile tenendo conto tenendo conto dare una regola generale e quindi dante sa che tempo mi sembra sono fai conti dopo diecimila anni ecco il calendario in uso dei tempi di dante sarebbe stato completamente svasato ed è bellino queste espressioni gennaio che tutto si sverni perché perché l'equinozio di primavera è andato a finire a dicembre è un'espressione famosa e giustamente anche molto carina inizio allora inizio dante inizio abbiamo detto accettato spero ormai siamo nel 1301 la notte il 25 marzo nostro calendario calendario di dante è il 25 marzo è la notte tra il 25 ma 24 marzo 1300 e il giorno 25 marzo 1301 abbiamo sottolineato abbastanza dante si perde in questo posto da dei riferimenti e dalle distanze che ci fornisce sempre effettivamente si svolge a cuma se non sbaglio e riposta anche il virgilio aveva indicato l'accesso al mondo sotterraneo mondo del anni sotterranei perché secondo la visione che tante accetta meno ai fini del del poema della divina commedia non è un luogo in cui vanno le anime quindi raggiungibile è un luogo fisico luogo in cui si può anche andare a finire dante ci andrà appunto perché si trova sottoterra e questo è un posto speciale in cui miasmi dovuti ad acqua e sul furia eccetera dante dice un posto in cui neanche gli occelli sopravvivono perché l'acqua l'aria è troppo avvelenata infatti il posto che darebbe accesso agli inferi quello leggete quella figurina piccolina che indica è un'immagine ho trovato di virgilio allora per semplicità e per comprensione immediata quando virgilio parla di viene a per andare agli inferi lo fa partire proprio da lì e dante che poi si troverà virgilio in effetti parte esattamente lo stesso punto per un viaggio che complessivamente dura una settimana ci sono dei dettagli ora vista l'ora non starei entrare sono tutto dettagliato e intanto poi molte informazioni sull'astronomia nella divina commedia ormai si trovano in questo anno per fortuna si trovano abbastanza diffuse l'unica cosa da sottolineare che guadagna 12 ore quando alla fine dell'inferno arriva sulla terra arriva sul centro della terra risale da parte di là e naturalmente trova e è lo stesso giorno che appena lasciato che si è appena concluso nel suo emisfero e quindi questo guadagno di 12 ore è una cosa carina che cosa ci racconta siamo vicino alla pasqua la pasqua è stata legata dal concilio di niccia è stata legata a plenillunio e infatti lui dice io a notte fu la luna tonda che non ti non ti nocco alcuna volta per la vostra selva fonda c'è tutto sommato il chiarore lunare è quello che permesso di attraversare la selva altrimenti era così buia e scura che ti sarebbe ti saresti perduto qui vedete sotto le informazioni selva inizio giovedì santo alle ore 24 le equinozio di mavera luna piena e l'anti sole al meridiano e questi sono gli elementi da ricordare appunto del cielo luna piena che d'arte deve tenere presente sono gli elementi che definiscono la data della pasqua vi ricordate la definizione della data della pasqua risale dal concilio di niccia tra l'altro niccia è la città in cui era nato questo famoso il parco del secondo secolo panti cristo questo concilio di niccia concilio stranissimo perché voglio dire l'ha fatto costantino io su costantino c'ho molte riserve perché se non sbaglio mi corriggetemi se sbaglio l'hanno fatto neanche santo ma lui ne ha ammazzati tanti a cominciare da pareti più prossimi sono sbaglio anche la moglie figli ma qualcosa del genere dopodiché però cosa ha fatto ha detto no ma la religione ufficiale delle cattoliche allora la chiesa come dire ho butto orto collo forse anche un torto collo l'ha messo fra i suoi personaggi privilegiati leggetti la vita costantino non è non sarebbe stato il caso indice tra l'altro lui si sostituisce al potere religioso indice questo 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 concilio a cui vanno una manciata irrisoria ma è fra le varie cose però stabiliscono uno che il capo della chiesa deve essere il il vescovo di roma e sappiamo come andato a finire poi sappiamo la conseguenza il papa e secondo definiscono date la stabiliscono la data della pasqua la motivazione ufficiale era che si doveva condannare le teorie ariane le teorie ariane è quella che dice guardate gesù si è vero è personaggio divino ma viene dopo dio perché viene sulla terra eccetera ovviamente nella concezione cristiana e la trinità è indissolubile sono tre sono tre entità che coesistano quindi l'arianesimo e metteva una scala temporale ovviamente da condannare tutto sommato l'arianesimo viene porte giusto interessava di più stabilire che fosse il capo della chiesa cattolica e costantino in particolare che a roma aveva trovato c'è tutta una storia lì ho scritto anche dei lavori cercate silvestro secondo insomma una storia molto molto piacevole interessante la battaglia saxarubra molto interessante è stabilita data della pasqua data della pasqua viene messa nella prima domenica dopo il plenilunio che segue alle quinozze primavera meccanismo è sempre un po complicato in realtà se uno non lo rilegge un'attenzione complicata non lo è emblema della pasqua di resenenzione ho preso questo splendido splendido la sansepolcro ritratto già fresco di però della francesca cristo risorto e il concilio stabilisce la prima domenica come si è detto prima domenica dopo il plenilunio successivo alle quinozze primavera e sono gli elementi che dante ha messo nel solo cosa la luna piena sta per la domenica successiva quindi sarà pasqua è appena passato le quinozze primavera va bene queste le sapete il museo sinodio i due fiesta mobile eccetera eccetera siamo all'interno quindi lui parla di un sole vede il sole che sta per sorgere tutte queste indicazioni ma uno se le rilegge anche per conto proprio si trovano anche divine commedie perfettamente commentate correttamente anche commentate vede già ci sono i raggi del pianeta va bene concediamo non è un pianeta e una stella ma insomma per quello che ne sa per per dante era un astro in realtà era assimilabile a un pianeta da un punto di vista cinematico era una cosa leggermente diversa da per altri punti di vista guarda luminosità e l'energia ma da un punto di vista formale di schema di caselline da riempire riempiva una delle caselle caselline dei pianeti che mena dritto altrupa non di tale cioè che indica la strada da tutto questo ricaviamo che il sole sta sorgendo ma siamo all'epinozio quindi sono le ore 6 lui si sta calta camminando in moto in direzione oraria il sole sta sorgendo il plenilune luna appena visto tramonta e qui ho messo l'immagine dietro di farinato gli uberti ma tanto per uno sfondo chiaramente non c'è riferimento specifico questo è il passo ai da un punto di vista astronomico trovi più interessante perché dice ma dice tante cose ora vediamo insieme il mattino sta cominciando con quelle stelle quali stelle se alle equinozio primavera sono le stelle della costellazione della riete famoso punto gamma degli astronomi non è vero ma insomma per vari motivi un po lo vediamo stiamo sulla tradizione le stelle della riete che sono le stesse costellazioni che c'erano presenti quando dio ha creato ha creato le cose belle c'erano creato il cosmo quindi com'è che crea il cosmo e ci sono già le costellazioni vabbè e quello che richiedono le opere d'arte sappiamo che richieda sempre quello che si chiama il principio di sospensione della credibilità dante afferma e noi ci crediamo volentieri che nel momento in cui tutto inizio universo in particolare la costellazione presente in cielo erano o forse dio ha creato già il cielo con la costellazione della riete quindi è quella delle equinozio di primavera dante inizia il suo percorso esattamente in quelle condizioni quindi le condizioni sono le più favoribili possibili cose belle appunto il cosmo inizia in condizione la creazione quindi tutto dopo la paura iniziale dopo la selva oscura e l'avevo si spaventato invece la le cose volgono al meglio è passato nord di nuovo siamo nella selva vediamo sotto tutta la cronologia sottostante ecco questo è la riete costellazione la riete mi sono basato sulle sulle mappe di che velio se siamo nei 1693 di molto tardi dopo e vedete cosa ha disegnato il nostro il nostro bravissimo incisore l'eclittia e questa specie di binario tratteggiata non quello del bordo e sia chiaro questo centrale che le costellazioni in particolare la riete e ho sovrammesso le stelle più luminose della riete più o meno vabbè le costellazioni torno nei giusti c'è pochissimo a parte lo scorpione il resto è tutto inventato ma insomma vabbè ci crediamo volentieri un astronomo difenderò sempre questo modo di rappresentare le cose e quello che stupisce un pochino è ah sì l'altra cosa vedete le scritte sono alla rovescia vi dico cose sapete la maggior parte di voi sa benissimo quando si sviluppano le grandi navigazioni siamo nel pieno 400 colombo poi magellano legava c'è un'implementazione della tecnica di incisione di rappresentazione delle superfici terrestri vedete qui il periodo delle mappe bellissime precise e tagliate perché c'erano tante terre da riportare e allora questi incisori a un certo punto e la terra come che la rappresenti la rappresenti come se fossi sopra la terra stessa e rappresenti per esempio ho in mente una bellissima mappe di cellarius della libia rappresenta la libia vista dall'alto come se fosse su una moncolfiera sta sopra e la guarda sta fuori dalla terra e la disegna bravissimo splendide opere anche da un punto di vista estetico molto ben fatta quando deve rappresentare il cielo le stesse persone perché sono le stesse persone lo stile è quello l'esperienza è quella la professionalità è quella loro non si ponga neanche il dubbio sembrerebbe rappresentano il cielo come rappresentavano dalla terra visto da fuori momento come il cielo visto da fuori fuori dove non ha importanza allora se se voi guardate in cielo non la vedete così la ostellazione perché sono tutte rovesciate e anche il nome quindi è rovesciato scritto alla rovescia è come se uno immaginiamoci veramente l'ottavo il nono il ottavo cielo quello delle stelle fisse fosse andato a vedere dall'imperio da quantomeno dal cristallino tutte le costellazioni quindi non vista da dentro siamo abituati noi queste da fuori dall'esterno quindi il nome appaiono rovesciati le costellazioni sono anche rovesciate rispetto a quello che osserviamo in cielo dopodiché è vero erano anche poco utili perché se vedeva se avevate una mappa celeste dovete ruotarla e osservarla in trasparenza per vedere la corrispondenza o il cielo però hanno fatto così per secoli vabbè a parte a parte la questione del rovesciamento quindi abbiamo il binario l'eclittia cioè dove vediamo muove il sole cioè dove per proiezione si muove il sole su un percorso in realtà è il percorso reale della terra e che viene proiettato lo vediamo come se il sole si muovesse nel cielo così come durante il giorno il sole si muove da est verso ovest e in realtà è la terra ovviamente gira da ovest verso est moti relativi della cinematica allora però se questa è la riete e questo è l'eclittia appunto siamo in ambiente economici astronomici dov'è l'intersezione con l'equatore e non c'è qui disegnata perché in effetti punto famoso punto gamma non c'è punto gamma perché in effetti sta accanto ecco questi pesci qui li vediamo l'eclittia di nuovo tutto tutto i segni di nuovo questa indicata trasversale questa colore celeste chiaro spero subito e linea dell'equatore e il punto gamma è dove la linea dell'equatore c'è il piano che proprio della terra perpendicolare all'asse polare interseca il piano dell'orbita quello è il punto gamma mi sembra l'ho disegnato anche se questo è il punto gamma ed è l'ibera equinozzo di primavera quando è che è andata a finire lì beh quando il parco fa le sue costellazioni nel secondo secolo avanti cristo più o meno stava nella riete però poi progressivamente si è spostato perché questo moto è vero richiede 25 mila 800 anni e sono tanti però che non è un tempo infinito è un tempo confrontabile con i secoli e allora già ai tempi di dante l'equinozzo di primavera non stava con la riete perché dante allora parla di riete boh probabilmente perché non vuole perché sapeva che non era così sapeva che era la processione appunto la scoperta del parco sapeva che non era così beh perché per tradizione direi la primavera sta nella riete la creazione viene nella riete quindi non è così facciamo finta che lo sia insomma ci conviene a tutti fare finta e lo sia e questo va bene e quindi non 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 inferiamo lo lasciamo dopo di che le cose vengono rimesse a posto certo perché con gregorio xiii e la riforma dell'ottobre del 1582 si saltano i giorni si rimette a posto le costellazioni e le cose tornano si 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 recupera l'errore pregresso e dante va bene non poteva non saperlo ma sono almeno in questo caso se sentite gli astrologi altra punto razza infame ma loro dicono che no ma non c'entra perché non c'è ma guardate la processione degli equinozzi non torna allora sull'ultimo numero del bollettino che ho mandato c'era anche ricevuto diverse come dire proteste c'era credete gli oroscopi andatevi a vedere che segno siete veramente quasi tutti sono spostati di un giorno le durate sono cambiate sono 13 segni zodiacale lo scorpione i nati dello scorpione sono rimasti a nove giorni soltanto di appartenenza propria insomma se uno tiene conto veramente del moto celeste le cose sono ben diverse da quelle ci propinano certi personaggi e fanno i quali fanno la distinzione no ma è così la processione non ha tanta influenza perché un conto è la casa è un conto è la ostellazione va bene lasciamo perdere la polemica e poi un'altra osservazione vede pesci io devo dire no bisognava da più veloci e tanto le trovate queste cose tutta la conda attraverso gli occhi di virginia continua a osservare si muove ci dice cosa vede e quindi capiamo che le sono sabato 26 ore 5 un'ora prima dell'alba perché stanno per per i pesci guida su per l'orizzonte fate tutti i conti e vedete che in quei giorni quando i pesci sorgono dall'orizzonte inizia anche la giornata quindi siamo subito prima dell'orizzonte l'utilizzo dell'astronomia da parte dante è veramente sorprendente ecco qui c'era un punto esclamativo rosso sta descrivendo il cielo per questo fatto vedere il cielo dell'italia centrale che lui poteva osservare e sicuramente non c'erano i libri vi dicevano se voi siete in questo momento a gerusalemme il cielo osservate questo qui i cieli descrivevano quello che avevano osservato gli astronomi da quel punto di vista dal loro punto di vista non c'erano strumenti versatili vuol dire strumenti parametrici e dante riesce perfettamente provate a utilizzare un programmino oggi riesce perfettamente a descrivere il cielo e sim che vedrebbe una persona che per giro vede attraverso i suoi occhi quando stando sotto gerusalemme in europa succedono certe cose incredibile lo trovo veramente questo l'orsa vabbè l'orsa stella polare saltiamo c'è se tramonto e la luna anche questo sono tutte cose in cui dimostra la sua perfetta padronanza delle conoscenze astronomiche imposti in cui non è mai stato attraverso fenomeni astronomici che lui conosce ma in altra forma delle sue parti e che invece riesce a mettere oltretutto a mettere anche in versi va bene questo dice che siccome la luna fa un giro e 29 giorni tutti i giorni rispetto alla terra si trova un'ora anticipata e quello che tante osserva qui va bene tutto l'utilizzo dell'astronomia e questo è quello che dicevo prima abbiamo un po saltato il gerusalemme si trova al centro la parte azzurrina sono i mari la parte nera sono le terre emerse le cumene di gerusalemme si trova lì al centro va bene questo lasciamo fare tutte le questioni si dai finalmente si eccetera eccetera va bene questo lisse che ha usato sorpassare colonne d'ercoli e di nuovo dante utilizza tutto per farci capire come si come si è come sta passando il tempo per lui e come si sta spostando e poi arriva al purgatorio si trova e ha disceso tutto l'inverno tutto l'inferno e si trova al centro della terra e lì a questo punto passaggio attraverso il centro della terra a questo punto deve deve salire dall'altra parte e questa è carina perché gli dice levisi su di se mettiamoci anche i personaggi corrispondenti Virgilio Dante Virgilio levati dice svegliati il percorso è lungo e già il sole a mezza terza risiede cioè il sole è già intorno alle sette e mezza di mattina come ha fatto non mi tornano le cose si dice perché sei nel centro della terra adesso pinora provenivamo dalla zona di buio ma adesso appena si passa il centro sopra di noi c'è il giorno certo dove c'è il giorno e la notte sono alternate agli antipodi questo Dante fa un po' di fatica a capirlo mi sembra ho fatto anche un disegnino qui sì vabbè terremersi eccetera voglio veramente andare più veloce dove l'ho messa vabbè dice sì ma guarda che si proviene dalla notte ma adesso stiamo andando siamo passati da parte della terra come se adesso è buio uno sprofondasse nella terra sbuca dalla parte opposta ovviamente trova il giorno si trova di spostato cosa ci guadagna e cosa ci perde beh ci perde il sonde evidentemente Dante lì è stanco non sa sentire un c'è il percorso e perde 12 ore però guadagna un giorno quindi si ritrova a metà della giornata precedente di quella che aveva appena concluso a Gerusalemme va bene io tutto questo tutte le altre considerazioni attraversare la terra e che ho detto come Filias foggia alla fine guadagna un giorno come era successo a Filias foggia vedete il giro del mondo in 80 giorni che lui fa tutto il percorso e mettiamola così sembra qui ecco lui quando è sera lui viene da sotto dove c'è Gerusalemme come abbiamo visto in tutti poi concludo come abbiamo visto in tutti gli schemi giù in fondo c'è Gerusalemme non fate caso questa è l'immagine del polo sud ma no è solo per avere un'immagine della terra e quindi sopra di lui c'è il cielo della sera ma adesso fa un'inversione perché deve essere di là e sotto di su trovo il mattino ed è per questo che Dante che Brigillo gli dice svegliati già mattina semplicemente l'aver passato nel centro della terra e questa l'altra cosa interessante quindi ecco lì fai il percorso su risale al portatorio e che sembrerebbe lui dice arrivata al centro di dove sono tutti il centro della gravità mi giro con sforzo zero e risalgo di là sembrerebbe quasi che stesse utilizzando le leggi di Newton sulla gravità insieme al teorema di Gauss quello che mi dice appunto che il centro delle gravitazioni è all'interno del corpo in realtà no ovviamente questo non è possibile non può anticipare le leggi del 1687 è solo che 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 la stessa cosa aveva detto Aristote tutti i corpi hanno il loro luogo naturale che è il centro della terra quindi tutti i corpi vanno a finire al centro della terra e per questo che in otto Aristotelica lo stesso Dante non fa nessuno sforzo a ribaltarsi e a risalire poi dall'altra parte va bene io qui vediamo se c'è ancora tutte le varie altre considerazioni l'ultimissima cosa venere ancora eccetera quando arriva nel paradiso e questo è veramente il giudo dell'ultimo che cos'è che misura il tempo se non si legge il timeo di Platone la misura del tempo avviene con il moto dei pianeti però e prima quando il demiurgo ha creato i pianeti ma non li ha messi in moto il tempo non esiste però adesso i fenomeni celesti non hanno più senso quando sei nell'imperio oltre il primo mobile e quindi il paradiso è al di sopra dei meccanismi celesti che divengono inosservabili cioè il tempo ha perso significato al di sopra del cristallino che è quello del moto e quindi del tempo appunto inviterei a rileggersi vincendo la noia bestiale che è il libro complicatissimo e noiosissimo a rileggersi il timeo di Platone col movimento il tempo esiste al di sopra della sorgente di un movimento di cristallino e nel tempo non esiste più allora non ci sono più neanche i fenomeni quali avvengano nello spazio e nel tempo e nel paradiso le cose cambiano va bene tutto questo direi che vi ho abusato fin troppo della vostra pazienza quindi ringrazio ancora ma l'ho premesso Dante se si fa con un minimo di interesse e di dettaglio richiede giornate e giornate grazie comunque allora grazie Massimo ringraziamo davvero il nostro relatore il nostro socio e ringraziamo il pubblico che ha continuato a seguirci assidamente fino ormai sono quasi le 11 si mi spiace come si fa no è giustissimo anzi davvero è stato bellissimo veramente molto interessante soprattutto sarebbe bello continuare anche questa disquisizione sul tempo chiedersi perché l'astronomia non ha più senso una volta passato allora visto Joao visto e mi hai provocato mi dice no 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 aspetta no è breve la presidente mi scriverà adesso visto e mi hai provocato come dice sordi e maccheroni nel famoso film andate a vedere tempo di ispirazione Firenze cultura dominante la cultura neoplatonica guarda casa l'autore del timeo guardate l'affresco dello zuccheri sulla sulla volta di Santa Maria del Fiore come fa il pittore a dire che c'è giudizio universale e il mondo finisce beh dipinge una morte che spezza la falce non si muore più perché tutto il mondo è finito ma c'è un aspetto bellissimo che è un piccolo puttino proprio quello tipo quello del Chianti Putto il quale sta per conficcare un gigantesco chioto nella terra c'è un martello bestiale un mazzolo come si dice da noi e sta per conficcare sotto c'è il dio Pantocrate come si dice che un trono sotto c'è una sfera celeste la terra e l'angioletto sta per piantare un disco un chiodo dentro la terra nel momento in cui pianterà il chiodo nella terra la terra si ferma sparisce il moto del pianeta simbolicamente sparisca il fenomeno dell'universo e sparisce anche il tempo esattamente quello che dice Dante anzi che dice la teoria platonica la relazione fra tempo e fenomeni l'uno senza l'altro non hanno senso e quindi vabbè andate come ultimo comunque appena si può viaggiare un po' di più un po' meglio insomma andate se vi interessa andate a vedere la cupola gli affreschi bellissimi della cupola di Santa Maria del Fiore fine 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 grazie ancora provocazione colta in pieno però una bella una bella chiusura grazie ancora e auguriamo la buonanotte a tutti e ci vediamo nel prossimo evento della società astronomica poliziana grazie per la pazienza auguri alla società astronomica sono fatto piacere e a Vanna in particolare che spero non si sia addormentata davanti al computer e a te Pedro per la pazienza per l'abilità anche a risolvere certi piccoli problemi come abbiamo visto di tipo te grazie buonanotte a tutti buonanotte